un minuto compadre più dei luoghi del convento di san giovanni rotondo siamo nella stanza delle lettere ovvero una stanza dove vengono raccolte tutte le lettere che sono arrivate qui a san giovanni rotondo italiana ed estere tra il maggio del 1965 e l'aprile dell'anno successivo del 66 qui c'è anche da raccontare quanto era importante il lavoro che prestavano i confratelli di padre pio che gli davano una grossa mano nell'andare a rispondere a tutte queste persone che scrivevano in questo luogo si conservano tutti i diversi paramenti che padre più utilizzo durante l'ultima messa vediamo anche attraverso questa tovaglia che è sistemata sull'altare delle macchie di sangue che gli cadevano dalle ferite delle mani l'altare invece è quello che lui usava quando non ancora era stata costruita la chiesa di santa maria delle grazie la grande era l'altare che veniva sistemato all'aperto fuori per permettere a tutti di partecipare alla messa di padre pio oggi qui per raccontarvi e per leggervi una lettera che scrisse a padre agostino nel 1915 era il 20 di maggio viva Gesù che così vuole contro ogni mio demerito farmi entrare a parte dei suoi dolori o quanto è insopportabile padre mio il dolore sofferto lontano dalla croce ma come addiviene soave e soffribile se si soffre non lontano dalla croce di Gesù tutto per l'anima riesce facile pur sentendosi oppressa ed inebriata ad ogni sorta di patimenti e se non vi fosse in fondo in fondo a quest'anima quel sacro timore di poter cadere a disgustare il divino sposo ella sentirebbe di stare in paradiso tanta è la dolcezza che apporta a lei si fatto modo di soffrire e l'anima scrive padre pio al suo padre spirituale posta in tale stato o quanto è soave nella sua esultanza rivolta al divino maestro e dice sì o Gesù veramente il tuo gioco è soave e lieve ne è il tuo peso in questa lettera dove padre pio parla e scrive di quanto è bello soffrire vicino alla croce di Gesù grazie 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 grazie